Aspettiamo il segnale della registrazione Che non arriva Ok Bene, buongiorno ragazzi Benvenuti alla quarta lezione di questo corso Oggi iniziamo la parte di programmazione delle interfacce Quindi il modulo B Come dicevo, questo corso quest'anno è organizzato in maniera un po' diversa rispetto agli anni precedenti Andiamo parallelamente sulla parte di interfacce, sulla parte algoritmica Questo per dare un senso alle ore singole Quindi questa lezione è pensata già per essere un'ora singola Quindi quello che vedremo oggi è un'introduzione al framework QT Che ci accompagnerà per tante lezioni E ci consentirà non solo di fare Di realizzare applicazioni grafiche Insomma di utilità Come quelle che utilizziamo Nei nostri sistemi operativi Ma anche dei videogiochi Questo ogni anno scegliamo un videogioco E lo realizziamo in classe Questo pone delle sfide Didatticamente valide Ma anche divertenti Quindi sarà sicuramente di interesse Spero vostro Quando arriveremo a realizzare videogiochi Anche con QT Quindi in questo modulo Ci sarà una parte di base Di concetti di base Che inizieremo a discutere oggi Probabilmente ci fermeremo o qui o qui oggi Dipende da quanto ci mettiamo E le parti più avanzate Le discuteremo nelle lezioni da due ore Sono cose sicuramente che necessitano di più tempo E che consentono però di fare anche cose più interessanti Ovviamente ci tengo a dire Che quello che vediamo in questo corso Non è tutto QT Ma è quella parte che ci consente di fare applicazioni Di realizzare applicazioni comunque anche complesse C'è tutto però Un resto Lo vedremo poi a breve Quando vi farò vedere una pidiata Di tutti i moduli di QT Che non c'è tempo ovviamente di spiegare qui Quindi si rimanda la documentazione Per quello che manca qui In appendice trovate Magari lo discutiamo anche oggi Alcune dritte su come installare QT Ora Dato che stiamo iniziando QT In maniera così presto Sarebbe anche carino Che da qui a meno di un mese Iniziassimo i laboratori virtuali Quindi magari non domani Però iniziate a Appena potete A installare l'ambiente A configurare l'ambiente Per vedere se funziona Perché insomma presentarsi Ad un laboratorio virtuale Che non funziona niente Significa buttare via Una sessione in cui vi posso aiutare Su come realizzare il progetto Non tanto configurare l'ambiente Bene Partiamo Qualche cenno storico È importante perché La storia di QT È intimamente connessa Alla storia di Linux Dice che cavolo c'entra QT con Linux Beh forse Chi di voi Insomma ha usato Linux Ha notato che Soprattutto le distribuzioni Con KDE Ha notato che Dovrebbe aver notato Che c'è QT Già preinstallato Comunque Questo nome ricorre Nelle distribuzioni di Linux Ora vediamo perché Beh intanto Poniamo un problema Come dicevo Ogni lezione mi piace Cominciare da un problema E non dire Oggi facciamo questo Perché facciamo questo oggi Facciamo questo perché Fin dagli anni 90 C'è stata l'esigenza Con la proliferazione Dei sistemi operativi Prima Sistemi operativi C'erano pochini Intendo quelli end user Quelli verso Gli utenti finali Non industriali Utenti insomma PC Computer personali C'era una Una proliferazione Di sistemi Un po' Linux Un po' Unix Un po' Windows Sicuramente Siamo Eh beh In 1990 Stiamo parlando Di primissimi Windows Comunque c'era Questa Già questa Questa tendenza Ad una proliferazione Di sistemi operativi E Quello che mancava Che ancora oggi in realtà Non è facile trovare Ecco perché QT Non ha molti concorrenti Anzi Da questo punto di vista È praticamente Lo standard de facto Mancava uno strumento Per realizzare Interfacce grafiche Che funzionassero Su tutti i sistemi operativi Ora Questo non era l'obiettivo In realtà Degli inventori Gli inventori di QT Sono due novegesi Eh Harvard Nord Eric Eng Come si chiamano Eh La loro esigenza Era ancora più Diciamo di basso livello Ovvero realizzare Un sistema Di programmazione grafica Basato sulla programmazione Oggetti La programmazione oggetti Era già stata inventata Però Non da tanto tempo Quindi comunque Era Una filosofia Una paradigma Di programmazione Che Stava trovando Sempre più Sempre più moda Sempre più sviluppo E E quindi La loro idea Era di realizzare Un sistema Interfacce grafiche Basato sulla programmazione Oggetti Perché Perché Si presta bene In un'interfaccia grafica Io ho l'oggetto pulsante L'oggetto menu L'oggetto barra L'oggetto Freccetta di scorrimento L'oggetto Insomma Ogni cosa è un oggetto E quindi Si presta molto bene A questo caso Hanno iniziato Lo sviluppo Da soli Quindi hanno fatto Una specie Di start up Però Con pochi soldi Tant'è che Vado dritto al punto Se no Facciamo una lezione Solo sulla storia Sono stati Aiutati Dalle loro mogli Quindi Loro Mettevano Soldi Su questa Su questa avventura Facevano solo questo Di lavoro Non facevano altri lavori Quindi Il rischio era altissimo Il rischio di Buttare via Tutto l'investimento Che veniva Dal lavoro Delle loro moglie Quindi dietro il lavoro Di questi due tizi C'è il lavoro Delle loro moglie Quindi diamo merito Insomma Tutta Tutta Uomini Ma anche donne In questo caso Che hanno Sono state le prime Investitrici Di questa Di questa avventura E Hanno fondato Nel 94 Quindi dopo 4 anni C'è stato tutto Insomma Un periodo di tempo Di sviluppo Di progettazione E di investimento Hanno fondato La Casa Technologies Che è quella Che prende il nome Di Qt Ok Quindi Qt Sta per Casa Al Technologies Anche se oggi Ha cambiato nome Varie volte Adesso è di proprietà Della Trolltech Nel 1995 C'è stata la prima release Notate 0.9 Vi ricordate L'altra volta Metto l'1 Quando sono sicuro Che è stabile Mentre 0.9 Fa capire Che comunque C'è stato un gran lavoro Però Diciamo È la prima release Con tanti problemi Per Unix Per Unix E per Windows Stessa API API Sta per Application Programming Interface Cioè Il programmatore E noi Come in questo corso Vediamo la stessa interfaccia Di programmazione Cioè Usiamo le stesse funzioni Le stesse strutture dati E questo è di grande vantaggio Perché per la prima volta Per la prima volta È stato possibile Nel 1995 Scrivere un programma Che Avesse lo stesso codice Ma potesse essere compilato E quindi Poi eseguito Su un sistema operativo Windows E su un sistema operativo Unix Quindi La grafica Diciamo Veniva gestita Da sistema operativo Quindi Io Programmatore Dico Voglio una finestra Con questi pulsanti Questi menu E queste schede Per esempio Poi il sistema operativo Ne fa il rendering Con il suo stile Quindi Windows Ha il suo stile Solaris Avrà il suo stile Mac OS Avrà il suo stile Linux Ubuntu Basato su Gnome Avrà il suo stile Quindi ogni sistema operativo Ha il suo stile Di disegno Di interfaccia grafica Inizialmente La licenza era Sia commerciale Che open source E questa in realtà Dopo diversi battibecchi È anche oggi così Però Nel mezzo Ci sta tanta roba Che è importante citare Innanzitutto Che all'inizio È andata male Nessuno Se l'è Se l'è filato Nessuno Se l'è comprato Questo sistema Fino a Un anno dopo Mezzo dopo Nel 96 La ESA La European Space Agency Ha comprato La prima licenza commerciale Ma soprattutto Cos'è successo Nel 96 È nato Il progetto KDE Ovvero Così come vi ho detto Che I sistemi operativi Avevano diverse Interfacce grafiche Windows Linux Mac OS Mac OS Ancora non c'era Di tutto C'era il suo prototipo Però Le interfacce grafiche Di Linux Non erano tutte uguali Ogni Linux Ogni distribuzione Aveva la sua Interfaccia grafica E questo Non era bello Anche i sistemi Unix Tra l'altro Avevano Ognuno di loro La propria Interfaccia grafica Quindi i sistemi Linux I sistemi Unix Linux era la versione Diciamo Open di Unix L'implementazione Open di Sistemi Unix Avevano Interfacce grafiche Diverse Questo per il mondo Industriale È una tragedia Perché se io Che ne so Devo far usare I miei impiegati Un Linux Poi domani lo cambio Gli impiegati Devono essere Reistruiti Su come utilizzare Il sistema operativo Voi dite E vabbè ma fai usare Windows Tanto lo sanno usare tutti Beh nel 1996 Windows 95 Non era tutta Questa stabilità E usabilità Del resto Io lo ricordo Non so se voi Lo ricordate Era un sistema operativo Che diciamo Dopo 20 ore di utilizzo Poteva bloccarsi Tranquillamente Da solo Solo perché Lo si era utilizzato Per 20 ore di fila Insomma Non era fatto Per ambienti Proprio Industrialmente Seri Di programmazione Non era fatto Per quel tipo di ambienti Oggi sicuramente Windows moderno Va bene Va benissimo Per gli uffici Anche se costa E quindi Qualche ufficio Soprattutto nel nord Europa La pubblica amministrazione Si rivolge sempre più spesso A sistemi basati su Linux Perché sono A meno quelli come Ubuntu Sono gratuiti Di fatto Per questo scopo Oppure hanno delle licenze Molto Molto convenienti Ora Qual è la novità La novità è che Questo sistema KDE Che ancora oggi Qualcuno Insomma Qualcuno di voi Dovrebbe averlo sentito È Un'interfaccia grafica Di sistema operativo Quindi Gestisce Le finestre I menu Le barre Tutto quello che vedete Graficamente Nel sistema operativo È gestito da questo Livello Questo layer E questo layer KDE È stato realizzato Interamente In Qt Ecco Questo è veramente Il momento in cui Qt inizia A diffondersi molto Perché Se un sistema operativo Addirittura Se tutti i sistemi operativi Linux e Unix Si basano su KDE In quel momento era così E KDE Si basa su Qt Significa che Se io Programmatore Scrivo Un programma Per Unix O per Linux Quel programma Deve basarsi Su Qt Perché Deve essere Graficamente Coerente Con tutti gli altri Programmi Che stanno Su quella piattaforma E quindi D'improvviso Qt è stato utilizzato Praticamente Per tutto ciò Che veniva Sviluppato Per quei sistemi Però 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 Nella comunità Linux Non piaceva molto Questa cosa Mentre Unix Ok Unix Sono sistemi commerciali Quindi nessuno si può lamentare Perché è un sistema commerciale Ma i Linux Erano sistemi non commerciali Sistemi aperti Almeno non tutti i Linux Chiaramente ci sono Linux Aperti Linux non aperti Per esempio Linux Suse Un sistema commerciale Linux Red Hat Una volta no Adesso è commerciale Sento S Eccetera Sento S è la versione Non commerciale In realtà Dire Dat Arrivano le critiche Da chi? Dalla comunità Del software libero E in particolare GNU Free Software Foundation Il famoso Bellman mi pare Come si chiama Il fondatore Ecco Stalman Ho sbagliato nome Bellman Stalman Questo tizio Con questa barba Molto lunga E il fondatore Della Free Software Foundation Che è di GNU Quindi È a capo A capo Insomma Non esiste proprio Il concetto di capo Di una comunità libera È Il fondatore Di una comunità Che Spingeva Il mondo informatico Verso il software libero Cioè Fino a quel momento Ragazzi Era tutto chiuso Ma proprio tutto La Apple Non ne parliamo La Microsoft Nemmeno Non ne parliamo Unix Idem Tutti i sistemi Unix Erano tutti quanti Commerciali E chiusi Da questo punto di vista Anche dal punto di vista Di sorgenti Quindi c'era proprio Questa esigenza Di dire Il software deve Essere liberato Da queste catene Delle licenze commerciali Se non altro Almeno per scopi Che non siano di profitto Deve essere Un software Liberamente distribuibile Perché Perché arrivano le critiche A KDE Perché KDE Praticamente Questo livello Di interfaccia grafica Dei sistemi operativi Siccome era basato Su una licenza Ni Non era proprio Opensus Era più commerciale Che Opensus In qualche modo Costringeva Chi sviluppava Applicazioni Per i sistemi operativi Anche Linux Ad aderire a questa licenza Cioè Non c'era In quel momento Nei sistemi KDE Non c'era questa Libertà totale Che voleva La comunità Di software libero Ed è così Che nasce Gnome Gnome Che è il rivale Di KDE Praticamente L'altro L'altra filosofia Di interfaccia grafica Linus Nasce proprio per questo motivo Per contrastare KDE Basato su QT Gnome Quindi Ce lo ritroviamo Ancora oggi Gnome Per esempio Questo E' Gnome Ubuntu A meno Ubuntu Senza la K Davanti Si basa Su Gnome Quindi Questi pulsantini Qui Questo stile Queste cartelle Questa Questa barra Questo Questo Gnome Mentre Se avessi Utilizzato Kubuntu Sarebbe Linux Ubuntu Versione Con KDE Al posto Di Gnome Tra l'altro In questi anni Gnome E KDE Erano praticamente Intercambiabili In diversi sistemi Operativi Linux C'era la possibilità Di passare Da uno All'altro Poi le cose Si sono un po' Più stabilizzate Quindi Ubuntu Usa Gnome Kubuntu Usa KDE Che ne so Per esempio CentOS Credo Usi KDE Ogni distribuzione Usa uno Dei due Ambienti Delle due Filosofie Ce ne stanno Anche una terza E una quarta Però sono minoritarie Rispetto a queste due Comunque Nonostante questa guerra E tutto il resto Tra l'altro QT Alla fine Insomma Cede Questa Questa battaglia E quindi Rilascia Progressivamente La libreria QT Con licenza GPL Che è una licenza Adatta A software libero Quindi Alla fine Ormai era troppo tardi Ormai Gnome aveva preso La sua strada Eccetera Però Anche KDE Oggi è compatibile Con il software libero Ed è il motivo Per cui ci sono Linux Assolutamente Distribuzioni di Linux Assolutamente libere Che sono basate Su KDE Quindi non è vero Che oggi KDE è commerciale In quel momento Era un po' sfumata La situazione Per quello Nasce Gnome Però A un certo punto Insomma Libero KDE Libero Gnome Però le strade Ormai si sono divise QT Comunque diventa Allo standard De facto Per applicazioni Linux Non solo Per KDE Ma comunque Viene usato Anche per applicazioni Per applicazioni Gnome Questo perché QT dentro Ha un motore Che imita Imita Non è la parola Del tutto esatta A seconda Il sistema operativo Potrebbe imitare Oppure Richiamare Le procedure native Di quel sistema operativo Per disegnare la grafica Cioè che significa Che se io sono su Windows QT dialoga con il sistema operativo Windows E dice Windows Mi disegneresti per favore Un pulsante Come tu sai disegnare Che significa Come tu sai disegnare Tu Sistema operativo Windows 10 Quindi tu hai Il tuo Modo di disegnare Il pulsante Stessa cosa per Mac OS E per arrivare In Linux Gnome O KDE Quindi QT Da questo momento in poi Già dentro C'ha Un motore di dialogo Con il sistema operativo Che cerca Quando è possibile Non sempre è possibile Di delegare Al sistema operativo Il disegno Delle componenti Dell'interfaccia Laddove questo non è possibile Procede per imitazione Che significa Che C'è un Ci sono stati Ci sono dei programmatori Che dentro QT Hanno detto Ok Allora Questo pulsante Su Mac OS Si disegna In questa maniera Però è una specie Di copiare Non è esattamente Lo stesso pulsante Del Mac OS Ma è Io guardo Programmatore Ok C'è il bordo arrotondato Quanti gradi Che curvatura Curvatura 06 Va bene Allora Ce lo metto Quindi è un'imitazione In quel caso In altri casi Invece È una vera e propria Si chiama Proprio Programmazione nativa Cioè Voi state utilizzando Proprio La grafica Del sistema operativo Purtroppo Vi anticipo subito Che Su Windows È così È quasi Il 99% Tutto nativo Così Su Linux Là dove Indominate un po' C'è Più difficoltà A invocare Le procedure native Di disegno Comunque si invocano Ma non sempre È Mac OS Quindi Un'applicazione realizzata In Qt Se usa Stiamo parlando Di interfacce standard Con i pulsanti I menu Eccetera Se usa componenti standard Beh Su Mac OS Si nota la differenza Cioè Un'applicazione realizzata Con gli strumenti nativi Di Mac OS Quindi Cocoa E tutti i framework Di Mac OS Si vede Se è fatta con Qt Oppure no Su Windows Invece Non è distinguibile La cosa Non dovete Non si distingue Questo però Se l'applicazione Usa I componenti standard Se invece L'applicazione Ha un suo disegno È sempre un videogioco Assolutamente no Uno si disegna le cose Da zero E quindi A prescindere dal sistema operativo Il disegno è da zero Quindi è uguale Per tutti i sistemi operativi Bene Tornando alla storia di Qt Finalmente nel 2001 Qt La versione 3 Diventa cross platform Davvero cross Windows Mac OS Unix Linux Desktop Nel Beddet Ovviamente diventa sempre più grosso Nel 2005 La versione 4 Su quella Che è Diciamo il passo Lo step di avanzamento più importante E poi nel 2008 Trolltech è stata acquisita da Nokia Ma Nokia poi è fallita È fallita perché Lo sapete Nokia non ha creduto Nella tecnologia touch E quando ha iniziato A interessarsi Era ormai troppo tardi E quindi ha perso la battaglia L'ha persa Contro Apple E contro Google Google Android Sistema operativo E tutti quelli che poi hanno acquisito Android Come sistema operativo Come per esempio Samsung Quindi Nokia fallisce Allora Trolltech Viene acquisita da DGA DGA Adesso è l'attuale proprietario Di Qt Che È rinominata DGA Qt In The Qt Company Quindi tutte queste rinominazioni Alla fine Oggi Qt È di proprietà Di Qt Di fatto Perché si chiama The Qt Company E Nokia Nel frattempo È stata presa È stata acquisita Da Microsoft Vabbè È un'altra storia Nel 2015 Finalmente Che tra l'altro Il primo anno In cui ho iniziato A spiegare Qt Ai ragazzi È stata unificata Il sito Significa che Tutta questa storia Che abbiamo visto Precedentemente Ha fatto sì Che ci fossero Diverse fonti Di documentazioni Ufficiali Della libreria Del frame O Qt Perché una volta Ce l'aveva Nokia Una volta Ce l'aveva DGA Una volta De tutti i company Una volta Trolltech E quindi c'erano Quattro siti Dove trovare La documentazione E non erano uguali Quindi C'era un po' Di casino Finalmente In 2015 Chiuso tutto Se ne apre uno solo Di sito E ora il sito È quello ufficiale Di Qt Se si trova Se si cerca Su internet Qt Il primo sito Beh questo Mi ha completato da solo Però il primo sito Dovrebbe essere Di Qt Qt.io È il sito L'unico Vero sito Di Qt Non ce ne sono altri Ok C'è la documentazione Eccetera Vedete Non ci sono altri siti C'è questo Qt project Che dovrebbe essere Un Vabbè Non interessa esattamente Che roba Beh Dovrebbe essere Sempre un affiliato C'è la stessa grafica Quindi è un affiliato È un Qt.io Quindi è lo stesso sito Di primo Quindi è vero C'è davvero Un solo sito Bene Abbiamo finito i cenni storici Oggi Quindi rispondiamo A una domanda Ma perché abbiamo scelto Qt in questo corso Perché dobbiamo fare Questa cosa Beh Ormai un motivo È assodato Perché supporta Tutte le piattaforme E cross platform Quindi supporta Sistemi Unix based Quindi sistemi Che utilizzano Il server grafico X11 Come tutte le distribuzioni Linux E i sistemi Unix Solaris FreeSBD E altri Linux embedded Android Che è un sistema Non Linux Basato su kernel Linux Ma non è Linux Non si può dire che Android È Linux Ha il kernel Linux Ma sopra c'è un sistema Creativo completamente nuovo E quindi Qt è compatibile Anche con Android Con anche Mac OS X Che è uno Unix IOS Che è uno Unix E Windows Windows Tutti i Windows Ovviamente compatibile Questo significa Che possiamo con Qt Sviluppare applicazioni Per il desktop Per il tablet Per lo smartphone Embedded Linux Quindi per esempio Per il termostato Smart Della casa O altre applicazioni Embedded Utilizzatori noti Cioè chi è che usa Qt Oggi A livello industriale Beh Sono dei big player Oltre alla Ormai citata ESA L'agenzia spaziale europea La Dreamworks Dreamworks Conoscete no? Nel campo cinematografico Come a Lucasfilm A Panasonic Philips Che significa ragazzi Quando io dico Philips Panasonic Significa che probabilmente Se non sicuramente Quando voi accendete Il vostro Smart TV Ormai Dai Tutti quanti Ce l'abbiamo La TV piatta Con Smart Che significa Che c'ha Le app Eccetera Ma secondo voi Su quella TV Che sistema operativo gira? Mac OS? Se come no Quella è la Apple Sì La Apple TV Ci gira sopra Probabilmente Mac OS O iOS Ci gira Windows Ma davvero? Cioè quindi Io accendo la TV In due secondi Si accende Quello è Windows No Ci gira sicuramente Un sistema Linux Ora che sia un Embedded Linux O un Linux Delle varie distribuzioni Disponibili Questo non lo posso sapere Dipende anche dalla potenza Insomma Del processore Che sta Oh Non vi scandalizzate La TV è un computer Non so se questo messaggio è passato Non l'ho detto esplicitamente La TV di 10 anni fa Era la TV C'è Q2 integrato Non c'era sistema operativo Era la TV Quella era la TV Adesso la TV è un computer Quindi è un computer Su cui gira un sistema operativo E secondo voi Queste applicazioni Che girano sul sistema operativo Quindi Sicuramente I menu che voi scorrete Le app che stanno su quella TV Come sono scritte? Beh probabilmente Se la TV è Philips Molto probabilmente È scritta in QT Quindi sta girando Su un sistema Linux Che dialoga con la libreria QT Stessa cosa Samsung TV Samsung Penso sono ovunque Siemens Volvo Walt Disney Animation Studios Blizzard Entertainment Vedete che Walt Disney Dreamworks Lucasfilm Nel mondo del cinema QT è usato È usato Perché Ci sono applicazioni Per l'animazione Che sono Basate su QT E poi ci sono i videogiochi Quindi Blizzard IA Electronic Arts E poi altre Insomma compagnie Che non ho citato Software noti E basati su QT Beh Questo forse lo conoscete Dai corsi di elettronica digitale O forse lo conoscerete Se farete elettronica digitale Altera Quartus Maya Maya è un software Costosissimo Utilizzato nel cinema Per la Per l'animazione Quindi Che ne so I film D'animazione Fatti a computer Probabilmente C'è Maya di mezzo Matematica Questo è un po' più Di nicchia Google Earth Si usava molto Qualche anno fa Adesso non più Però era fatto in QT Spotify Questo lo usate tutti VirtualBox Pure si usa per Virtualizzare Le Insomma Sistemi operativi VLC Questo lo usate No? Eh Lo usate sicuramente Una volta si usava Per vedere questi film A computer Quelli scaricati Da peer to peer Adesso invece cosa si usa? Immagino Magari sono rimasto indietro Lo mettete in streaming Verso la tv Cioè voi fate con VLC Fate il server E lo mandate in streaming Alla televisione Quindi voi dalla televisione Vedete il film Che avete scaricato Da Da torrent Senza nemmeno copiarlo Sul disco Di una chiavetta Che ne so Non serve non più Metterlo sulla chiavetta Il film Oppure sono diventato Vecchio io E oggi i film Non si scaricano più Tanto ormai Vari Netflix Cose varie Costano poco E uno Se li vede direttamente lì Non lo so come fate Poi KDE Ovviamente CMake CMake Fatto in QT Calibre È un software Per la Sincronizzazione Gestione di librerie Libri Libri proprio Libri Sul Kindle Libri elettronici Ok E-books Poi Guitar Pro Ebbè questo Non so chi di voi Su una chitarra Ma io che Sono un ex chitarrista Lo usavo tantissimo Ed era fatto in QT Parallels Parallels È il programma Che io uso Su macOS Per passare da Un sistema operativo All'altro Quindi Windows Linux Ecco S Io sto usando in questo momento Parallels E poi c'è la versione torrent Fatta in QT Il vantaggio è che Si può scaricare per tutte le piattaforme Mentre Non so se vale per tutte Non tutti i client torrent Sono disponibili Per tutte le piattaforme Ma un client che si basa su QT Chiaramente per definizione QT è cross platform Quindi se voi fate un torrent per QT Con QT Lo potete distribuire a tutte le piattaforme Quindi questo è il vantaggio ragazzi Se voi volete fare un software Che non so Vuole spaccare Vuole riempire una nicchia Nel mondo del mercato Per esempio Un Guitar Pro Che ne so Fate Bass Pro Per il basso Anche se è adattata Guitar Pro Contempla anche il basso Sto sparando Giusto per dire una cosa Se lo fate usando QT Poi questa cosa La potete distribuire a tutti 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 quelli Tutti gli utilizzatori Per tutti i sistemi operativi Quindi questo è il vantaggio Utilizzato da quasi Un milione di sviluppatori Nel mondo Qui vi potrei raccontare Alcuni aneddoti personali Ovvero visite che noi Come gruppo di ricerca Abbiamo fatto in azienda Aziende con cui Dovevamo stabilire una collaborazione Aziende che Con mia sorpresa A meno negli anni In cui ci siamo andati Parlo di 5-6 anni fa Utilizzavano per esempio In campo biomedicale Che uno dice Non c'entra niente Per fare il programma Di supporto alla diagnosi Del radiologo Quindi del medico Che poi va in ospedale Quindi questo programma Messo su una macchina Che va in ospedale Questa macchina Questo mammografo digitale Aveva un sistema operativo Linux E sopra c'aveva Questo software in QT Io chiedi Ma perché avete scelto QT? Abbiamo scelto QT Perché oggi noi sappiamo Che il sistema operativo È Linux Ma domani no Domani potrebbe anche essere Un Windows Ah sì Eh sì Stiamo considerando anche Windows E poi non lo so perché I loro motivi Quindi Oggi realizzare Un software in QT Consente domani Di poterlo Portare facilmente In un altro sistema operativo Cosa che invece Non è vera Se lo si sviluppa Per esempio Se io sviluppo Un software per Windows In C Sharp In .NET Come faccio a portarlo In macOS In Linux Non si può fare Ci sono modi Per far girare Quel software Sul Linux Usando Win Però insomma Dai Non è la stessa cosa Bene Questo chiude Più o meno La parentesi Di utilizzo Chiaramente Ci sono molte altre cose Che mi sfuggono Su internet Potete trovare Tranquillamente Una lista Di utilizzatori noti E software noti Più lunga Di quella Che ho qui elencato Bene Cosa c'è dentro QT? Innanzitutto quale QT? QT5 Quello che usiamo In questo corso Ormai da diversi anni È una versione stabile È arrivato alla 5.12 Non lo so Comunque è una versione Molto stabile E dentro C'è un sacco di cose Che Noi utilizzeremo Principalmente Questi tre moduli Che stanno nel pacchetto Di Essentials Quindi essenziali Quindi GUI serve per il disegno Il disegno Il disegno Della grafica Quindi Che ne so Puoi fare un poligono Puoi creare una texture Disegno Core Core è la parola È il core Il cuore Della 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 Widget Sono Dei componenti grafici Predeterminati Pre Installati Per esempio Pulsante Quindi non devo disegnarlo io Pulsante Poi Ci sarà il pulsante Nel sistema operativo Windows 10 Windows 7 Quello che c'è E non devo interessandone io Quindi io dico Voglio un pulsante Qt Poi dietro le quinte Lo fa disegnare E lo disegna Come deve apparire Network Questo serve per Per esempio Protocolli TCP Quindi Network Funzioni di rete Multimedia I suoni Per esempio Video Cose di questo tipo I dialoghi Le finestre di dialogo Quindi salvataggio Apri un file Cose di questo tipo E poi Insomma SQL Per il dialogo Con base di dati E Basta Insomma Queste sono le cose Che utilizziamo in questo corso Cose più avanzate Dipendono anche da quello che uno vuole fare Nella vita Per esempio Android Extras Mi fa pensare che Ci sono delle cose specifiche Per Android Che si possono utilizzare Come Qt 3D Mi fa pensare ad un motore Per fare cose in 3D Quindi effetti particellari Cose Un po' più avanzate Però noi Insomma Non è che Stiamo facendo un videogioco In 3D In questo corso Anche se l'abbiamo fatto L'anno scorso Poi magari ve lo faccio anche vedere Sensori Quindi per rete di sensori Bluetooth Ma sono cose che noi Non usiamo Queste Non le usiamo In questo corso Forse usiamo soltanto Il print support Questo si Per Inserire la stampa Nel notepad E Poi c'è tutta Una parte Di Interfaccia Versi Sistemi operativi Quindi Windows Mac Linux Android iOS E altri Notate che A seconda di dove mi sposto Cambia anche la licenza Per esempio Qui Siamo passati Da una GPL V2 A una GPL V3 Che significa Poi ci sono anche Dei moduli commerciali Quindi Quello che vi faccio vedere Qui è un po' tutto Quello che possiamo usare Le cose viola Con qualche limitazione in più Però Insomma Le possiamo usare Per esempio Qt Creator E L'idea Almento di sviluppo Per Qt Se non vi piace Visual Studio O non vi piace Un altro Un altro Ambiente E poi Insomma Altri 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 moduli Che andiamo a descrivere Durante il corso Non è necessario Soffermarsi adesso Su questo Comunque Una libreria molto grande Che consente davvero Di Di fare tante cose Ok Quindi Quindi Quelli che usiamo oggi L'abbiamo già detto Sono Oggi Insomma In questo In questo corso Sono Quelli di base Qt Core Contiene i meccanismi I concetti di base DQt GUI Contiene Il disegno grafico Gestione degli eventi Poi diremo Che cos'è E i widgets Che sono Appunto Una collezione Di elementi predefiniti Il nome è Windows Gadget Gadgets Gadgets Che Come Cussante Menu Etichetta Con stili predefiniti E adattabili Assista operativo Ok Iniziamo ad entrare Un po' dentro La libreria Quest'anno viene molto bene Che noi abbiamo fatto L'ultima lezione Su CMake E ora ci ritroviamo A iniziare Qt Perché possiamo capire subito Dove era la promessa Di CMake Quando dicevo Quando voi dovete Includere una libreria In CMake Sarà molto facile farlo Non dovete fare Menuelle Quali file di libreria In quale ordine No Guardate come è semplice Adesso qui Bisogna dire Se io voglio una libreria esterna Quindi attenzione Questa non è L'ultima volta Non abbiamo fatto Il link Con una libreria interna C'è una libreria Che noi compiliamo E quindi Non c'è bisogno Di trovarla Non c'è bisogno Di cercarla Find È interna Quindi sappiamo già Che nel nostro progetto C'è una libreria Ed è la nostra Questa è una libreria esterna E le librerie esterne In CMake Si cercano Con il comando Find Package Cosa fa Find Package E cercali Nei percorsi di sistema Se la trova Dice che l'ha trovata Se non la trova Ora vediamo Capiterà Lo farò capitare Dirà Oh non l'ho trovata Quindi tu Che stai configurando Con CMake Dimmi dove cercarla E vabbè Uno ci mette la cartella E amen Va avanti Solo la cartella Deve mettere Quindi il comando Cerca la libreria Qt5 In particolare Qua sta cercando Il modulo Widgets Che è il modulo Con i pulsanti E tutti i componenti Predefiniti Le dipendenze Vengono risolte Automaticamente Da CMake Ve l'avevo promesso Infatti è così Perché in realtà Widgets Dipende da cui Perché se io Devo disegnare un pulsante Devo disegnare Quindi mi serve GUI Dove ci sono I strumenti di disegno Ma se io devo disegnare Mi servono I strumenti di base Di Qt Quindi sta in core E allora che faccio Includo sia questo Sia questo Che questo No Ne basta uno E le dipendenze Vengono risolte In automatico Quindi basta dire A me serve questo Ed è come se CMake inserisse In aggiunta Automaticamente Anche gli altri moduli GUI e core Lo fa da solo Quindi se per caso La vostra applicazione Utilizza Vabbè L'esempio che ho fatto Già funziona Non voglio complicare la vita Quindi Quando andiamo a fare Link Con l'eseguibile Dobbiamo specificare Anche La libreria di Qt Che stiamo usando Quindi Qt5 Widgets Stavolta con due punti Come in C++ Come Un qualificatore di contesto Quindi Modulo Widgets Della libreria Qt5 Gli altri Sono automaticamente Aggiunti Quindi io l'ho messi In grigio Per dire che Si sarebbero dovuti Inserire Ma anche se non si inseriscono Comunque viene In automatico Inserito Ok Questo Dipendenza interna Va bene A tempo di esecuzione Ragazzi Sembra il solito discorso Le DLL Devono essere visibili Quindi Voi installate Qt Dove lo installate Sto Qt Per esempio Qt Io l'ho messo In una cartella C Qt5 E qua dentro Bisogna andare Nella versione di Qt Andare nella versione Della propria piattaforma Di compilazione Perché uno non è che Diciamo Ho installato Qt Va bene per tutte Le piattaforme No Dipende da quale compilatore Usi Io uso Visual Studio 2012 E quindi Io ho Microsoft MS Visual C 2012 64 Quindi Questo Qt Che io ho installato L'ho installato Per Viso Studio 2012 Quindi qua dentro Io ho i binari Di Viso Studio 2012 Di Qt Bin Sta per binari E non è una sorpresa Che oltre ad avere Deseguibili Ho le DLL Queste sono le librerie Per esempio Qt5 Widgets Scopro che È una libreria Che È una DLL Grande 5 megabyte Che sta in questa cartella Ma il sistema operativo Per trovarla Io devo aggiungere Questa cartella Al patto di sistema Ora io questo L'ho già fatto Quindi immagino Che Da qualche parte Deve stare Qua c'è un CQt5 Questo è un altro Eccolo qua CQt5 5.1 MSVC 2012 Poi ci dovrebbe essere Con i64 Eccola qua Eccola qua Questa È la cartella Che sta nel patto di sistema Perché io l'aggiunsi A suo tempo Sta qui Significa che Il sistema operativo Va a cercare Le DLL Là dentro Le trova E l'applicazione Funziona Altrimenti vi direbbe DLL Not found Quindi se a casa Vi succede Questa cosa Non trova DLL Perché non avete Inserito La cartella Nel patto di sistema Su windows Come si fa Ve l'ho fatto vedere L'altra volta Ragazzi Clicca destro Su risorse del computer O a schermo O qua In dis pc Nel menu Funzioni avanzate Variabili d'ambiente Uno poteva mettere qua Direttamente Environment variables E avrebbe trovato Lo stesso Questo menu Quindi andare Nella variabile Path Io qua Su windows 8 C'è una stringa Unica In cui devo Io inserire Punta e virgola Separatore Nuova Nuova Percorso Su windows 10 Avete invece Una lista di percorsi Dovete fare Add Nuovo percorso Quindi Quindi questo è Ricordatelo ragazzi Che capita Tutti quanti Ogni anno Ricevo tonnellate Di email Non è un problema Però A meno quest'anno Sto pure registrando La lezione Andate a inserire La cartella Con le DLL Nel 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 patto di sistema Vale anche per Linux Questa cosa qui Ok Parliamo quindi adesso di come realizzare il nostro Hello World Il nostro obiettivo è di fare l'Hello World di Qt Noi sempre dagli Hello World partiamo In Qt in realtà Anche solo per fare un Hello World In realtà in tutto ci sono tre modi diversi Cioè Qt supporta tre diverse filosofie di programmazione L'opzione 1 C'è scritto C++ Uno dice ma come è possibile Allora ci sono opzioni 2 e 3 con altri linguaggi Sì Quasi Semplicemente l'opzione 3 Nell'opzione 1 è quella che utilizziamo noi in questo corso Perché noi in questo corso ci basiamo su C++ E quindi utilizziamo questa opzione Ora vi darò però altre motivazioni per cui utilizziamo questa opzione Intanto di che si tratta? Si tratta di utilizzare un C++ aumentato Che significa che appariranno dei nuovi costrutti sintattici Quindi una sintassi più arricchita del C++ Oh non vi spaventate Più arricchita non significa che raddoppia Quindi la complessità raddoppia del linguaggio Aggiungo tre, quattro cose Tutto qua eh Niente di eccezionale Però queste tre, quattro cose Sono delle nuove keyword Delle nuove parole chiave Che il compilatore di C++ non conosce Cioè insomma vi faccio vedere un'applicazione scritta in cutie Per essere chiari Super Mario Bros 3 Prendiamo la classe principale del gioco Do sta? La classe game Beh intanto c'è questa roba qui messa all'inizio Ma in realtà questa è una macro Quindi è una macro del preprocessore Quindi non è niente di nuovo per noi È una specie E questo uno c'è che sostituisci Qua dentro ci sarà tutta una schifezza Ecco infatti define, qobjet, tutto questo Quindi in realtà questa non è una sintassi aggiuntiva È un semplicemente una macro Che bisogna inserire Per dire che quello è un oggetto di cutie Ecco questo invece è una cosa nuova Questo è una aggiunta semantica del C++ Quindi io ho la sezione public E poi ho una sezione public slots Ma che sarà mai? Sicuramente questa è una parola chiave Che il compilatore non conosce Quindi stiamo comunque aggiungendo Una semantica Arricchendo la semantica del C++ Ora, dal momento che noi stiamo arricchendo La semantica del C++ Significa che i nostri sorgenti Che noi chiamiamo CPP In realtà non sono scritti in CPP Perché appunto la sintassi non è quella standard del CPP Quindi quando noi utilizziamo cutie Dietro le quinte si sta attivando uno strumento Che si chiama meta object compiler Mock Che cosa significa Mock? Il Mock prende in ingresso il CPP e l'header Però li prende come li abbiamo scritti noi Con la sintassi C++ aumentata E produce in uscita un file Mock Underscore nome del file che noi abbiamo inserito E là dentro ci mette il vero linguaggio C++ Cioè fa da traduttore intermediario Traduce il C++ aumentato Versione Qt In C++ standard E quindi questo è il motivo per cui vi dicevo Che nella cartella Nella cartella in cui noi andiamo a A creare il progetto Noi vediamo dei C++ Dei file C++ Ma non sono i nostri sorgenti Sono dei sorgenti intermedi Per esempio Ecco qua Oltre a questi che discuteremo fra poco C'è sicuramente Mock Game Guarda caso Perché c'è Mock Game? Perché questo Adesso l'ho chiuso però La classe Game di prima E' una classe con una sintassi aumentata Quindi significa che questa classe Deve essere tradotta La sua implementazione In un linguaggio C++ puro Ed ecco qua Created by the Qt Meta object compiler Meta object code From reading C++ file game.h Quindi dal game.h Dove noi abbiamo usato Quei costrutti nuovi Lui ha scritto un file In linguaggio C++ standard Che Ora io potrei anche spiegarvi Cosa c'è dentro Ma ragazzi Questo non è altro che L'implementazione C++ Di tutte le belle cose Che vedremo In questa parte del corso Cioè quando vi dirò Qt ha questa funzionalità Vi dà quest'altra funzionalità E quest'altra ancora E noi con queste cose Ci facciamo La programmazione ad eventi Ci facciamo Interfacce grafiche I videogiochi Tutte cose molto belle Anche facili da usare Facili perché in realtà Dietro si nasconde Questa complessità Quindi il Qt nasconde La vera complessità Del C++ Per rendervi la vita Più agevole Tutto qui Ma è questo quello Che fanno tutte le librerie Vi espongono una cosa Di facile e pronto utilizzo Ma al di sotto Di quella cosa C'è sangue e sudore Ed ecco qui Questo è il vero modo Di creare un'interfaccia Grafica in C++ Ma è un modo Difficile Ok Che Deve essere nascosto Questo è Il significato Di questi slide Quindi il meta object compiler Genera C++ Puro A partire da C++ In cui ci sono Questi nuovi costrutti Di Qt Che vi facilitano la vita Per fare Le interfacce grafiche Ok Che significa Opzione 1 Significa che In questa Filosofia Di programmazione Di interfacce grafiche Noi stiamo Sempre in C++ Quindi stiamo Noi mischiando Nel nostro codice La logica E la interfaccia Che significa La logica Dovrei prendere Un file Un file Di Chissà se lo trovo Il progetto Con I sorgenti Dei scacchi Comunque lo dico a voce Non è necessario Prendere il file Se voi prendete Un gioco degli scacchi Ragazzi Il motore Di intelligenza artificiale Degli scacchi Che è sicuramente Un motore logico Perché fa Insomma È un motore Scritto in linguaggio Di programmazione È il gioco stesso Inteso come Meccanismi di gioco Quindi Meccanismo di gioco Significa La torre si muove In orizzontale In verticale Queste cose Secondo voi Dipendono O non dipendono Dalla grafica Non so se potete Rispondere Se posso sentire Però Immagino che State dicendo voi Da casa O da dove siete No Non dipendono Dalla grafica Quindi ci dovrebbe essere Una separazione Tra quello che è La logica Dell'applicazione Nel caso dei scacchi Il meccanismo di gioco E l'intelligenza artificiale E quella che è la grafica Dell'applicazione Nel caso dei scacchi La grafica è Una scacchiera Di colori Bianco e nero A caselle alternate Con pezzi Che hanno Queste Texture E quando ci passo Con il mouse Si illumina la casella E posso trascinare Il pezzo Da una casella all'altra Vedete Grafica Logica Separate Ora Se Noi programmiamo tutto Con questa Modalità Spetta a noi Programmatori Separare Logica E grafica Cioè Scriveremo una classe Che si occupa Della logica Dei pezzi E una classe Che si occupa Della grafica Della scacchiera E queste due cose Devono essere separate Certo Dialogano tra di loro Ma devono essere Separate Significa che La classe che si occupa Del gioco Potrebbe essere Staccata Della grafica Data a qualcun altro E qualcun altro Ci fa la sua grafica Personalizzata Questo significa La separabilità Se noi abbiamo separato bene Dovremmo anche essere in grado Di staccare Le nostre componenti Tra di loro Se invece sono Molto 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 Interconnesse Cioè sono proprio così Voi non potete Staccarle Significa che non avete fatto Non abbiamo fatto Un buon lavoro Di ingegnere del software Questo è ingegnere del software Ora Se noi usiamo L'opzione 1 È probabile Che noi facciamo questo Perché Perché ragazzi Perché prendiamo Delle scorciatoie Mentre programmiamo Non ci va Di tenere le separate Perché ci vuole più fatica Ci vuole anche più sforzo Di astrazione E allora Inseriamo un collegamento Poi inseriamo un altro Poi un altro Poi un altro E alla fine abbiamo creato Un unico blocco monolitico Anche se sono due classi O più Abbiamo creato un blocco Incendibile Quali sono quindi Le opzioni alternative A questa filosofia Vabbè Questa filosofia Adesso non guardiamo il codice Lo discuteremo dopo Questa filosofia Produce Quindi codice C++ E poi La grafica Questo è L'equivalente Di creare un pulsante Con il testo Hello World Poi lo discutiamo Questo codice Non oggi Sicuramente Qual è l'opzione 2 L'opzione 2 Che apparentemente Sembra più interessante È quella di dire La logica Sta nel C++ La grafica Intesa come progettazione Grafica Proprio Lo schema Di come è fatta La finestra Di dove mettere I pulsanti Qua ci sono Delle Delle spin box Cioè Degli campi editabili In cui ci posso mettere Di numeri La metto La progetto Graficamente Quello che vedete qui È il Qt creator E questa modalità È anche chiamata Visivig Esiste anche Nella programmazione web Questa cosa Visivig Significa What you see Is what you get Cioè Quello che vedi È quello che hai Quindi La grafica Anziché programmarla La Disegno Quindi Qua ci metto un pulsante Prendo qua Una tabella Prendo qua La trascina La metto qua La dimensiono E sembra quindi Questa è davvero Un'opzione molto carina Il problema Di questa opzione È che Manca Una cosa fondamentale Va bene progettare La grafica Ma manca L'interazione Cioè comunque Io quando Che ne so Magari quando Finisco di Modificare questa cosa Si deve innescare Per esempio Un controllo Sulla base di dati Non lo so Nello specifico Però magari Voi state editando Qualcosa Che Si sta Interfacciando Nella base di dati Quindi dovete Comunque fare delle cose Quando l'utente Interviene Interagisce con l'interfaccia Ragazzi Con questa modalità È molto più difficile Creare l'interazione Perché Proprio questa separazione Ve la rende difficile Quindi Adesso io non sto qui A spiegarvi Come funziona questa cosa Potete anche Voi optare Per questa filosofia Però Vi anticipo Che sarà più difficile Innanzitutto C'è un nuovo attore Si chiama User Interface Compiler E non fa altro Che compilare Questi file di progetto Progetto grafico Che voi fate In Qt Li compila E li traduce In linguaggio C++ Perché alla fine Tutto deve diventare C++ Quindi anche se voi Avete fatto il vostro Disegnino Dell'interfaccia Dovrà diventare C++ Anche quello Quindi avevo giunto Un ulteriore passo Nella compilazione Quindi Nella modalità 2 L'Hello World Diventa Non più Codice Ma diventa Grafico Quindi disegno Un pulsante Ci scrivo dentro Lo World E graficamente Questo diventerà Un pulsante Con scritto Hello World Quindi apparentemente Questa cosa Sembra molto più semplice Ma vi assicuro Che la difficoltà È nascosta Tant'è che Insomma Non si fa Non è così Che si realizzano Le applicazioni grafiche A meno quelle complesse Se dovete fare Una calcolatrice Allora magari pure Si può fare così Ma non Certo Un'applicazione complessa Non potete farla Cioè potete Ma è difficile Farla così C'è poi Una terza Opzione Ma questa La discutiamo brevemente E poi Terminiamo il tempo Che io tutti gli anni Insomma vi dico Potete farlo Non lo fa mai nessuno Ma per un buon motivo Perché non vi documento io Di come farlo Utilizzando un linguaggio dichiarativo Tipo HTML Ok Quindi La nostra finestra Nel linguaggio dichiarativo Diventa Una cosa del tipo Esiste una finestra Ricordatevi I linguaggi dichiarativi A differenza di quelli Imperativi Non dicono Creo Una cosa E la creo Con questo codice Inchiamo Questa funzione Dichiarativo significa Una descrizione Del problema Descrizione Esiste una finestra Questa finestra Deve essere visibile E al suo interno Deve avere Un'area In cui il mouse Può interagire E anche un testo Vedete Allo stesso livello Di indentazione L'area dove il mouse Può interagire Deve essere riempita Come il padre Cioè deve Deve espandersi Fino a riempire Tutto lo spazio Disponibile Nel padre Che è la finestra E quando io ci clicco Deve chiudere L'applicazione Vedete come siamo A livello descrittivo Testo L'area di testo Deve contenere Un testo Che si chiama Hello World Quindi questa è la stringa E deve essere centrato Rispetto al parent Cioè alla finestra Cioè Centrato nella finestra Questo è La descrizione Notate come questa è Non solo Se codifica La grafica Ma codifica Anche l'interazione Ecco questa sì Che è più interessante Rispetto Rispetto a questa Perché qua abbiamo L'interazione E la grafica Scusate L'interazione E la grafica In un codice Dichiarativo La logica Dovete essere messa La logica La potete mettere In C++ Oppure in In JavaScript Anche in un linguaggio Diverso da C++ Come se fosse web Questa è una sfida Che ha lanciato Clutini Negli ultimi anni Cioè di rendere La programmazione desktop Simile a web Quindi questo è simile All'HTML5 Diciamo E la parte logica Invece si fa In JavaScript O in C++ Se volete Ma si può fare Anche in JavaScript E quindi Io vi do Nella Negli approfondimenti Di Drive Su Drive C'è una cartella Cutty Quick Negli approfondimenti Con un PDF In cui vi si guida Come creare Il gioco De Forza 4 Con QML Usando QML E C++ Quindi Se siete interessati A questa modalità Questa è una guida Che vi metto A disposizione Per oggi Finiamo qui Il tempo È terminato Domani Introduciamo Altri elementi Di base DQT Ok Quindi intanto Termino la registrazione E rimango disponibile Per eventuali domande Stop Allora Grazie a tutti.